Gironamo Savonarola, Trattato dell'umiltà I dodici gradi di San Benedetto Nota a piedi pagina Il Savonarola invece di consultare le regole di San Benedetto segue San Tommaso In questo modo dunque si sale alla perfezione dell'umiltà di grado in grado Invece San Benedetto assegna dodici gradi all'umiltà I quali sono piuttosto segni o manifestazioni dell'umiltà interiore che i suoi gradi Ma per non omettere nulla su questo tema Per quanto io posso, li espongo in quest'ultima parte del mio trattato Il primo grado o segno è che uno mostri sempre umiltà di cuore E di atteggiamenti esterni in tutti i suoi gesti Non facendo atti che mostrino superbia soprattutto con lo sguardo Perciò l'umile deve tenere gli occhi bassi a terra Soprattutto al cospetto degli uomini e non tenere la testa alta Ma con moderata modestia tenerla bassa e inclinata Non col collo torto né col capo tanto inclinato da sconfinare nell'ipocrisia Ma con moderazione senza ostentazione o singolarità Il secondo grado consiste nel ridurre a poche le nostre parole E sempre assenate cioè di cose sacre e gravi Così che anche negli incontri spirituali dovete dilettarvi più di ascoltare che di parlare E seppure parlate le vostre parole siano poche E ben dosate di sale, di sapienza e a voce bassa Perché la voce troppo alta è segno di mente altera e poco timorata Il terzo grado consiste nel non essere facili e pronti al riso Ma nel ridere di rado e con moderazione Secondo le parole dell'ecclesiastico Lo stolto ridendo alza la voce Ma l'uomo savio sorride appenna quasi silenziosamente Ecclesiastico 21-23 Il quarto consiste nel tacere fino a che non si è interrogati E ciò nel senso che uno non parli se non quando c'è bisogno Così che le parole gli escanno di bocca quasi per forza E perché vede che in quel caso non si può fare altrimenti Il quinto grado fa sì che l'uomo non si allontani dal modo comune di vivere imposto dalla regola E ciò vuol dire che uno non compia nessuna singolarità rispetto al comune onesto modo di vivere Perché questo genera vanagloria come abbiamo spiegato sopra Il sesto grado consiste nel fatto che uno crede veramente e dichiara di essere più viri degli altri Ci sono alcuni però i quali si dichiarano viri a parole ma non lo credono nel loro cuore E da questo avvivimento si aspettano qualche lode Il settimo grado consiste nel fatto che uno crede e dichiara di non essere degno e capace Degli uffici e incombenze di cui è incaricato Specialmente di quelli che riguardano Dio L'ottavo grado porta l'uomo a confessare i propri peccati Senza nasconderli e a dichiarare di essere peccatori Accusandosi apertamente senza scusarsi e senza mormorare le parole tra i denti Il nono sta nel sopportare pazientemente per obbedienza cose gravi e aspre Perché nelle cose facili tutti saprebbero essere obbedienti e pazienti Il decino sta nel sottomettersi ai propri superiori in tutti i loro comandi Perché non è veramente umile chi trascura qualche comando Il grado undicesimo sta nel non rallegrarsi di compiere la volontà propria Ma piuttosto quella altrui E non soltanto quella dei superiori bensì anche degli uguali E talora persino quella degli inferiori Quando la loro volontà è conforme a quella di Dio E voi potreste molto esercitarvi in questo grado Sforzandovi nelle cose che non sono contro Dio Di fare più la volontà del vostro marito che la vostra Di obbedire a lui come a Cristo Così pure potreste fare ugualmente con gli altri uguali di casa vostra Senza far prevare sempre su loro il vostro modo di vedere Il dodicesimo grado consiste nel mantenersi sempre nel timore di Dio E nel ricordare i Suoi comandamenti Meditandoli continuamente nel timore di trasgredirli E beato chi è umile di cuore Perché tutta la scrittura esalta questa santa umiltà E il nostro Salvatore che non può mentire afferma Chi si esalta sarà umiliato E chi si umilia sarà esaltato Luca 14.11 Questo dunque è quello che mi è parso di dover scrivere a voi A proposito dell'eccelsa virtù dell'umiltà E poiché le proporzioni di una lettera non tollerano che io mi dilunghi ulteriormente Per ora traslascio la seconda parte dedicata alla carità E che io avrei voluto unire all'umiltà Ma quando avrà presso che voi avete fatto qualche profitto in questa virtù dell'umiltà Pur senza raggiungerne tutta la perfezione Mi sentirò invogliato a scriverne qualche particella Voi frattanto pregherete Dio ogni giorno per me peccatore Affinché, come nello scrivere mi ha condotto a terminare questo trattatello Mi dia la grazia di giungere con le opere alla perfezione di tale virtù E che a suo tempo mi conceda di poter scrivere sulla carità All'ode e gloria del nostro eterno Redentore Dell'umile Agnello Gesù Cristo Il quale è con lo Spirito Santo L'unico vero Dio onnipotente Al quale è onore e potenza In eterno e ultra Amen La misericordia, la grazia, l'umiltà e la pace di Dio Sia sempre con voi Amen